Quindi personalizzare a mio avviso è la chiave del successo, personalizzare le terapie certamente sia prima che durante che dopo la PMA, ripeto con un monitoraggio attento soprattutto di estradiolo e progesterone, ma personalizzare anche il rapporto con i pazienti, con le caoppie che deve essere certamente un rapporto empatico, anche se questo è molto costoso. In realtà personalizzare è costoso, ma il fine giustifica a mio avviso i mezzi. Che vuol dire personalizzare? Ecco, quali sono le misure pratiche per personalizzare? Sicuramente identificare in maniera precisa la riserva ovarica e migliorarla. Valutare anche la terapia nell'uomo, specialmente in caso di ICSI per cause andrologiche. Non è che perché si fa la ICSI non bisogna tentare di migliorare lo spermiogramma. Poi come ho detto preparare, preparare meglio la donna in caso di ovaio policistico, endometriosi, obesità, ripeto un monitoraggio che deve essere fatto eventualmente anche sette giorni su sette, valutando soprattutto il progesterone e ovviamente anche il pick up. Non è che perché c'è il weekend e il pick up non si fa nel weekend. Se è necessario, siamo noi che dobbiamo andare appresso, diciamo così, al ciclo del paziente e non viceversa. In laboratorio c'è anche una personalizzazione. Io ricordo che in alcuni casi in cui gli ovociti non erano maturi, sono stati maturati in vitro dopo un certo numero di ore e il nostro biologo la notte ha fatto la ICSI, l'inseminazione, proprio perché una volta maturati gli ovociti non possono aspettare il giorno dopo. E poi quando c'è un fallimento bisogna rivalutare questi fallimenti e ricercare sistematicamente le cause per immaginare un nuovo piano che possa migliorare le probabilità di riuscita. Ma tutto questo serve anche a migliorare il rischio ostetrico di aborto, di parto prematuro e di altre patologie una volta che si sia instaurata la gravidanza. Grazie 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 Grazie